E allora eccoci qua, e siccome a Genova il neopresidente Bucci ha vinto per meno di 9.000 voti, no a Genova, in Liguria per le regionali, a proposito fatemi fare un grande in bocca al lupo a Bucci che è comunque veramente un grande combattente, e lo dico sul serio. Dicevo che siccome la destra ha vinto per meno di 9.000 voti, secondo autorevoli politici ma anche editorialisti non è stata solo la sinistra essere sconfitta, ma soprattutto essere sconfitti sono stati i magistrati e i giornalisti. I magistrati naturalmente per aver avuto l'ardire di investigare, indagare, inquisire il presidente della regione Toti, l'ex presidente della regione Toti, il capo del porto Signorini e l'imprenditore Spinelli per corruzione, e guarda caso, diciamo, alla fine di questa inchiesta tutti e tre hanno patteggiato che a casa mia un po' è come dire, ammettere di fatto la corruzione. I giornalisti perché hanno osato raccontare l'inchiesta, raccontare, far ascoltare a voi le intercettazioni, intervistare i protagonisti e soprattutto perché tutto questo l'hanno fatto, pensate, prima del voto e non dopo il voto e questo è davvero sensazionale perché la grande rabbia della destra è che appunto il giornalismo osa fare le inchieste prima e non dopo il voto. Scandalo! Ma io non capisco perché, insomma, è come pretendere, non so, come guardare le previsioni del meteo del giorno prima oppure usare l'anticoncezionale dopo aver fatto l'amore, cioè non ha proprio senso fare le inchieste dopo che i cittadini hanno scelto perché è una buona democrazia, è una democrazia che dà ai cittadini, in cui l'informazione dà ai cittadini gli strumenti per essere correttamente informati. Ma l'indipendenza di magistratura e stampa non piace molto al sovranismo che fa forte in questi tempi, in questi tempi in cui, diciamo, si preferisce al governo il comando e il comando ama ben poco i controlli. Non è una tendenza solo italiana, guardate, è una tendenza globale. Pensate che negli Stati Uniti per la prima volta dopo 50 anni il Washington Post ha rinunciato a fare l'editoriale in cui sceglie il candidato con cui schierarsi tra Kamala Harris e Trump. Per la prima volta non ha deciso perché Jeff Bezos, che è il proprietario del Washington Post, nonché di Amazon, pensa che questo, almeno così l'ha motivato, renda più obiettiva e credibile la stampa. Proteste dei lettori, 200.000 abbonamenti disdetti in tre giorni, Proteste della redazione, alcuni grandi editorialisti che si sono dimessi da questo grande giornale, il giornale del Watergate, che ha scoperto il Watergate, ma insomma, alla fine per Bezos meglio perdere i lettori che danneggiare gli affari di Amazon nel caso probabile che Trump vinca le prossime elezioni. Insomma, anche nella terra della libertà, il simbolo del giornalismo indipendente si inchina al potere politico. E a proposito di giornalismo indipendente, infame mi ha definito il capo degli approfondimenti della RAI e militante di Fratelli d'Italia Paolo Corsini, non ho ricevuto né una riga né una parola di scuse dalla RAI, la quale ha annunciato un'indagine sul comportamento di Corsini. Dopo una settimana ancora nessuna novità, nonostante il video sia chiarissimo e chiunque può guardarlo. Chissà come andrà a finire. Chissà se la RAI agirà con indipendenza o se seguirà l'indicazione della nostra seconda carica dello Stato. Fate un applauso a un grande giornalista. Non infama mai nessuno lui. Chi vuol capire capisca. Chi vuol capire capisca, dice il Presidente del Senato con un linguaggio allusivo. Tradotto, chi infama merita di essere chiamato infame, soprattutto se è un giornalista di La Sette. Dunque, ci suggerisce il nostro Ignazio Benito Larussa, Paolo Corsini si è assolto dai suoi peccati. E chissà se alla fine sarà assolto dai suoi peccati anche Enrico Pazzali, capo della società di investigazione Equalize, accusata di una incredibile e incessante opera di spionaggio e dossieraggio ai limiti dell'eversione. Pazzali è anche Presidente di Fiera di Milano e amico, grandissimo amico di Ignazio Benito Larussa. E Pazzali, ai giornalisti scomodi e critici verso di lui, riservava questo speciale trattamento. Federico Marconi. A fine novembre del 2019 scrive la sua rubrica sul mensile del Sole 24 Ore, una rubrica che fa succedere un putiferio, scopriamo oggi. L'articolo parla dei bilanci della società EUR SPA. Questo bilancio inattivo in realtà era un bilancio non veritiero. Le perdite effettive, secondo la mia analisi, superavano i 6 milioni di euro. Allora ho raccontato molto brevemente questa piccola storia, ricordando che l'amministratore delegato della società Ente EUR era Enrico Pazzali, un milanese vicino al centro-destra che all'epoca era anche il presidente della Fondazione Fiera di Milano e il suo stipendio, ricordavo, era 209 mila euro all'anno solo per l'incarico a EUR SPA. Quindi non poteva immaginare che quel piccolo trafiletto, quella piccola rubrica potesse scatenare tutto questo, addirittura un Trojan nel cellulare, che è un captatore utilizzato nelle indagini per mafia dalle procure. Mi è sembrata una reazione, se quello è l'unico motivo, l'unica causa, una reazione esagerata. Abbiamo appreso dall'ordinanza che comunque Pazzali, attraverso la società da lui controllata Equalize SRL, di cui possiede il 95%, svolgeva questa attività di infiltrazione nei cellulari, dei computer, sfiltrazione di messaggi, eccetera, anche su un mercato della vendita di informazioni riservate. Nelle carte dell'indagine di Milano scopriamo che i suoi messaggi venivano manomessi per creare dei dossier. Ci sono stati dei messaggi attribuiti a me, oppure da me ricevuti, secondo quello che ho potuto sapere, che io non ho né mai inviato né mai ricevuto, e addirittura dei messaggi scambiati con delle persone con cui non ho familiarità, che non conosco se non di vista, e di cui non ho neppure il numero di cellulare. Pertanto mi chiedo questa falsificazione di messaggi, perché sia stata fatta? Forse qualcuno costruire dei dossier da rivendere, da utilizzare su altre scrivanie, su altri tavoli, per altri fini, immagino di potere politico, però non ne trovo una motivazione razionale.